Aria sgombra, inizio operazioni. Alle 10 dalla sala operativa in prefettura arriva il via libera al disinnesco della bomba della seconda guerra mondiale ritrovata nel porto di Palermo. L'evacuazione della zona era iniziata alle 6. Circa 8.000 persone coinvolte nell'area dei 400 metri a cui si è arrivati dopo la realizzazione di questo manufatto che è capace di ridurre la proiezione dei frammenti dell'ordigno. Di questi sono circa 60 quelli che hanno chiesto e stanno beneficiando dell'accoglienza organizzata dal Comune in tre strutture. Grazie alla costruzione di una casa matta da parte del IV Regimento Genio Guastiatori della brigata meccanizzata a Osta si è potuta ridurre l'area da sgomberare. Capace di proiettare frammenti a 1.850 metri di distanza si tratta di un ordigno americano ad alto potenziale. 600 libre con circa 118 kg di esplosivo a suo interno. È una bomba che veniva utilizzata soprattutto per la distruzione di strutture di un certo tipo. Una parte dei palermitani che hanno dovuto lasciare casa attendono sulle gradinate della favorita. Ci voleva la bomba per farmi entrare allo stadio, questa è la seconda volta nella mia vita che entro allo stadio. Ci siamo organizzati alla buona. Al prossimo episodio